Allora, metti qua, adesso ci devi inquadrare tutti e due, stai più vicino possibile, togli il tuo dito da davanti, questo, toglilo, ok, e stacci vicino, si, va bene. Ho scolto l'intervista? Sì. Allora, ti ha riconosciuta, ho visto qualche foto? Ha questo olore emozionata. Allora, cara mia, beh, intanto complimenti per il premio MVP, io ti devo confidare che ho corrotto tutta la sala stampa, infatti vince la postiglia, così tu me la regali, perché da buona Veneta l'ho subito a doppiazza. Grazie a tutti, no dai, grazie a parte, complimenti per questa prima domanda, ma oggi quello che ci si è detto con le ragazze in spogliato a prima inizia la partita è ragazza, andiamo in campo per divertirci e non abbia niente da perdere, tutto quello che arriva è di guadagnato e credo che c'è una tanta voglia di giocare, di vincere, l'abbiamo potuto vedere, quindi, bravo bene. Complimenti davvero, dopo prendiamo insieme. Svipulissimente, ciao, ciao. E tu devi indovinarla perché sai che io sono una cantante. Allora, indovina che canzone è. E' facilissimo. Ti saluto alla parola parte. Dai. Ma Marta, adesso vieni su perché... No, è un cartone animato. No, è una canzone un po' adattata, ma molto famosa. Se ti arrendi, no, non è la famiglia Adam. Se ti arrendi, me lo porto a casa. No, no, adesso sono tesa, però mi ha messo più pressione. Chiedo una vocale. Chiedo una vocale. Una vocale. Ma la fa non è una vocale. Be, be. Albania Romina, finito. Felicità. Te ne faccio un'altra. Comunque è la felicità, il bicchiere di vino, con un panino la felicità. Dai, dai, la seconda. Concentrati. Voi la musica, non date tanto da poco. Non sarebbe mica, non so. Mila e Shio. Mi spazi, la mila e Shio. Mi confondi. Io ho un bagaglio. Dai, puoi rifarti, fammela tu. In questo modo. Vale, ti mangiamo. Vale, dai. Com'è che è? Così, proseguo. Ok. Fili, aiutami. Ho vinto, ho vinto. Ho vinto il vino. Ho vinto lei, appena adesso. Cos'è, va? Questa è ancora qua. Il Liga 2, ho vinto io. Ahàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Grazie a tutti.